Ora ci siamo. Inizio della curva in vantaggio Caraca davanti a Rasha Melody, Catch Me, Jackal Prince, Misteri Manic, Tommaso, Osipenko, Giacobina, Vittoria Dei, King, Shandragoppo ed Authentic. Poco prima dell'ingresso indirittura prosegue in vantaggio Caraca davanti a Rasha Melody, Catch Me e Jackal Prince. I cavalli entrano indirittura con Caraca in leggero vantaggio lungo la corda davanti a Rasha Melody, Catch Me, Jackal Prince, a centropista Vittoria Dei con Nick Tommaso per linee interne, Misteri Man, seguono Authentic, Dragoppo e sempre in leggero vantaggio Caraca attaccata all'esterno da Rasha Melody. Seguono Catch Me, Jackal Prince, Vittoria Dei, Authentic e Nick Tommaso all'interno e Caraca, all'esterno Rasha Melody. A centropista Catch Me e Jackal Prince e in vantaggio Rasha Melody davanti a Catch Me, Caraca e Jackal Prince. L'ultimo vincitore di questa giornata strepitosa per Salvatore Sulas è Rasha Melody, il numero 10. Davvero il mattatore del poveriggio è stato proprio lui, il bravissimo fantino Salvatore Sulas.